Costanzo, sconfitta dei Galacticos contro i Tettenham, racconta un po' come è andata la partita Sì, oggi abbiamo giocato male, molto male Subito all'inizio abbiamo sbagliato i parecchi passaggi Loro parlavano pure sempre, passavano a tutti E quindi è stata un po' brutta partita per me Qualcuno che si salva dei tuoi? No, nessuno, forse ciò perché ha fatto la tripletta, ma niente Allora, la prossima giornata a Yammers, come la vedi la partita? Non li conosciamo, quindi dobbiamo rifarci, cercheremo di rifarci Classifica stravolta, da secondi, forse scenderete Pazienza Rifarete le prossime partite? Speriamo Ok, grazie, ciao ciao Filippo Di Fede, i Tettenham vincono, probabilmente i primi Probabilmente, speriamo Comunque oggi è buona prestazione, abbiamo giocato tutti bene Tribetta Di Coratolo, che è ancora un caldo, sta giocando benissimo in questo campionato Gol di governale, che si conferma con gli ador Comunque per ora tutto rosa e fiori Ringrazio Ivan Di Franco, che è venuto da una partita a calcio 11 Per dare il cuore per la propria squadra Non ho niente altro da dire Complimenti agli avversari a Marco Costanzo, che è un grande amico Classifica scalata, da quarti, i Galacticos perdono e scontro tra il vertice tra primo e terzo Per ora tutto rosa e fiori, quindi... Che sei frocio Vabbè, frocio, ok Tutto... Vabbè, poi ti rispondo, comunque... Qualcosa da migliorare oppure è perfetto tutto così? No, no, bene, secondo me l'unica cosa è che dobbiamo controllare maggiormente il risultato Oggi siamo andati pure in vantaggio di tre gol, però poi ci siamo fatti recuperati Quindi più concentrazione, ma poi... Vabbè, diamo qui Ma ho sbagliato io con la cazzo, vabbè, come ieri da Troni Però viene in posto Prossima giornata, il New Generation Eh, tre punti semplice Mi ha detto di suggerire tre punti... Vabbè, scherzo No, vabbè, lotteremo pure in quella partita Si lotta sempre Miglior in campo oggi? Lele, lele Lele, curatolo, vabbè, perché fa... Ha fatto l'ultimo colgato Lele, curatolo e di franco, mi sto dicendo di franco Di franco che ha fatto 5 minuti, alla fine Vabbè, governati a tutti, bene Va bene, ok, grazie ragazzi, ciao Ciao, ciao, via